San Valentino 2012, in questo negozio vendete prodotti dolciari e non solo, è un prodotto che si presta molto bene per le spese di San Valentino? Sì, perché sono tutti pensierini che partono dai 5 euro fino a su, il ragazzo spende un po' di meno, la persona più adulta ha un budget diverso da spendere. Qual è la media di spesa dovendo fare un bilancio? I ragazzi sulle 10-12 euro spendono. Anche fino a caso a caso, insomma, ognuno ha la sua, però una decina di euro è quella la spesa media. I prodotti più quotati? Cioccolatino. Cioccolatino, poi qualche pensierino così, che ne so, dal portachiavi simpatico, alla scatolina, insomma, il peluscetto, il peluscio per esempio ai ragazzi va sempre molto di moda. Che cosa avete comprato ragazzi? Un po' di cioccolatini. E basta. E tu? E io pure un po' di cioccolatini e basta perché più contento si mangia. Quindi le preferenze si buttano sui dolci. E cosa vi aspettate in cambio allora? Spero fiori. E tu? Una rosa, mi piacerebbe. San Valentino 2012, il fiore è stato sempre il regalo principe per San Valentino. Quest'anno però è un anno un po' particolare che è data, insomma, la crisi che stiamo vivendo e soprattutto adesso ci si è messa anche la neve, signora. Eh, però posso dire che comunque la cosa è andata molto bene perché ho venduto molte rose belle, di ottima scelta e secondo me la neve non è che ha influito molto, perlomeno per il mio settore in questo luogo. Quali sono i prodotti allora che sono andati per la maggiore? Mi stava dicendo le rose, giusto? Rose, molte rose, rose rosse e fiori di stagione. Fiori molto coloriti e profumati perché è comunque anche un annuncio della primavera, no?